ciao a tutti bentornati qui sulla north fish marsh allora siamo sempre al dicembre mattino del dicembre posto un attimo solo che ho dato una sistemata ai mezzi che adesso vi faccio vedere e avevo messo il tempo a zero così che non corresse avanti vedete qua ho dato una menza sistemata ai mezzi qui e soprattutto questo lato qua di cui ho anche impostato il parcheggio per questo e dopo piano piano metterò i parcheggi anche per questo nella speranza che ce la facciamo a fargli fare la marcia indietro in questo piccolo spazio ok allora devo ancora diciamo che è dare una fertilizzata a tutti i miei campi che significa che iniziamo subito e direi che iniziamo con quali più lontano quelli più vicini facciamo una cosa iniziamo col 41 di là iniziamo col 41 nel caso dovesse aver bisogno vai a caricare acquista vai fai in questo caso fertilizzante ok adesso qui gira perché ho messo controsenso vediamo se il 41 ce l'avevo già sì qua perfetto un punto più vicino questo mettiamo in moto ok e questo è fatto poi dovevamo anche iniziare a vendere qualcosa il che significa che dobbiamo andare a prendere tutto quello che abbiamo a proposito in non so se è in questa puntata qua ma o nella prossima inizieremo a mettere qua i capannoni e tutto il resto per quanto riguarda diciamo tutto questo spazio qua che una volta avevo già predisposto come doveva venire tranne qualche piccola modifica torna ad essere diciamo che uguale ok ok allora tu vai peschereccio che adesso devo prima di produzione fish non c'è il carica pallet vabbè andando tu vai qui si vabbè adesso se la vede lui noi come avevamo o per il meglio dire come avevamo finito la puntata precedente dove avevamo preso lo scorpion king ci direggiamo lì a tagliare un po di legna nel frattempo che loro arrivano è vero che uno arriva comincia a lavorare ma questo per caricare ha bisogno ha bisogno di un po di tempo anche perché non ho registrato neanche il percorso strana cosa ma non è un problema un po di slalom adesso e sinistra ok allora vediamo se nel frattempo è arrivato penso proprio di sì eccolo che ci aspetta voglio vedere quante pecore ho magari ne compro un po ne ho 90 io direi che ne possiamo comprare facciamo un numero pari compriamo questi facciamo 130 ce ne vogliono 32 compro 7 mila non è un problema tanto questi qua ok vediamo se aumentiamo un po la velocità nella produzione della lana qui ma effettivamente un po c'è così che nel momento in cui abbiamo tante pecore qui io direi che forse se riesco ne voglio mettere un altro la di fronte vediamo come come ci mettiamo allora per adesso parcheggio qua tanto non abbiamo bisogno di lui allora questo dovrebbe essere quello che abbiamo comprato no allora dove siamo no questo no io ho comprato questo no sì ma questo non mi serve per adesso allora dobbiamo andare di qua per rilacciare sto cosa di sbiega ok ho 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 ok diciamo che qui sono belle grosse un po di legna viene fuori aspetta quanto è messo sto coso qui no allora vediamo qua no chi è 05 05 troppo poco io direi di farli direi che possiamo farli da 6 metri dai o da 12 12 li prenda e dai facciamole 12 tanto alla fine cambia mica niente accendi quindi quando il camion carica le 12 metri quello bene dai allora aspetta un attimo prima andiamo a vedere il tipo del pesce lì dov'è adesso li devo girare tutti eccolo qua che è arrivato allora vediamo un po' produzione apriamo la sua produzione allora abbiamo shawl herring 79 e 79 vediamo i prezzi così magari andiamo a vendere direttamente manco per immagazzinare anche se devo vedere se ne ho immagazzinato allora secondo me sì però non mi ricordo dov'è fish c'è un'altra cosa è venuta fuori anche anche questa è chi la fa questa c'è un'altra produzione che fa e le 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 no io non vi ricordo la traduzione di questo adesso cosa chiamavano no 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 una specie di cozza però non mi viene così adesso ci penso poi vediamo allora il pesce dove è qui allora questo è siamo a 9 e 19 a febbraio il prezzo è buono dovremo aspettare un altro po' altrimenti questo a gennaio siamo a dicembre siamo a 9,79 contro i 9,9 questo invece 4,4 contro i 4,8 cambia e questo 4,4 se ne parla tutto diciamo che è tra gennaio e febbraio comunque questo è gennaio che significa che con questa roba possiamo pure aspettare però questo è meglio che li e triamforio che qua è quasi pieno la situazione fammi vedere non è che full speed ma ce li abbiamo già e quanto quanto me li paga questi dove a 90 centesimi ma questi allora vediamo un po' scarica pallet ma caricare dovresti caricare anche qui anche se secondo me dovevamo tirare un pelo più dritto guardate un po' come è storto sto coso forse se dovesse attrezzeremo un pelo non sarebbe male meglio ok allora vediamo dove le tira fuori da qui sciolo si 10 pallet ancora devo capire questa cosa qua allora meno 10 meno sono 16 va bene quanto ne vengono fuori qua 2 4 6 7 14 allora cambiamo intanto qua il tipo di carico ci dovremmo forse avvicinare un pelo di più per caricare perchè lì secondo me non carica in automatico da onde ha caricato malissimo questo non va bene allora no 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 ne sono rimaste due poi di questo cosa abbiamo che tu no no i no 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 qui così proviamo poi vediamo allora mettiamo un questo tanto se non funziona torniamo a cambiarlo carica predefinito qui e scarica magazzino magazzino scarica europallet va bene allora lui fa avanti indietro per adesso poi vediamo e noi togliamo un po di legna la legna ci serve per quella famosa segheria che anche lì c'è dalla roba da vendere e con quello che vendiamo da lì vorrei comprare un'altra di quelle che mi fa la legna ok vediamo un po quello che tiriamo fuori cosa è invisibile mi sembra vostro dei tronchetti da dodici metri il momento in cui abbiamo raccolto tutto poi dopo veniamo anche a ripiantare la ci sono più per qui che qui 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 Grazie a tutti Allora mentre taglio però la legna voglio vedere anche se c'è qualche missione da fare Perché no? Ma perché non c'è mai niente? Non lo so, allora così spengo tutto no? Accendi, 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 accendi No, niente contract per adesso, vabbè In inverno effettivamente L'unica cosa che possiamo fare è tagliare la legna E pensare a proposito, pensare per i nostri campi, cosa fa il Magnus? Maximum, non Magnus Sta lavorando benissimo Ho guardato per i rulli Ma io di un rullo che lavora l'erba così più grande non l'ho trovato Mi ne serve uno un po' più piccolì Cioè me ne servirebbe uno un po' più grande di quello che ho Ma fin quando non lo trovo Lasciamo perdere la lavorazione dell'erba Perché così ci mettiamo troppo E non ne vale proprio la pena Guarda, quello è scaricato? Sì, ha scaricato Benissimo Adesso piano piano torno indietro No, vorrei che vada in acqua poi Chissà se potremmo tirar fuori Visto che abbiamo comprato il campo La terra da qua, vediamo Mi metto un po' qui, vediamo se No Secondo me no Però una prova No leggiamo un rullo Vediamo se riusciamo a tirar fuori sta terra da questo Burrone lì Fiumiciatto, come vogliamo chiamarlo Allora questo non li prende Ok 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 Grazie a tutti. Allora facciamo un altro... Vorrei capire perché quello è fermo lì che non si muove. Allora... Allora... Dovrebbe caricare lì là... Eh ma perché non si è portato tutto? Ah perché probabilmente gli abbiamo dato troppo poco tempo. E se invece... Vabbè adesso facciamolo arrivare. E dopo magari cambiamo il modo di scaricare... Allora dov'è? Cosa è rimasto? È rimasto questo, questo, questo. Abbiamo scaricato tutto. Ma scarichiamo anche questi. Cambiamo... No, allora... Generare... Boh... Che poi non deve essere generare ma deve essere immagazzinare. Abbiamo fatto anche un po' di carta perché gli ho portato... Ho cipato, cipato, cipato... Come si è messo qua? Cipato 153 va bene. Carica elettronica va bene. Cosa manca? Ah l'acqua. Ah che cavolo. Vabbè adesso andiamo a vedere qua intanto. Poi dopo vengo a portarci l'acqua. Allora da un lato mi piaceva di più Quella versione lì di... Dove? Allora disattivare carico... Perché è cambiato qua? Ok, vai. Quasi quasi dico di tirare fuori tutto. Ok. Tanto dell'altra roba non è che ce ne sono tantissimi. Qua... Due pallet. Tre. Ok. Cosa è rimasto? Poca roba. Ok. Abbiamo caricato tutto? Sì. Allora fai una cosa. Tu... Gli cambiamo il modo. Così lo facciamo andare e basta. E... Base, 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 base. Dov'è? Magazzino scarica. Tu vai lì. Gli animali come si è messa? Ah, dobbiamo portare la razione mista. Un po' di roba dobbiamo fare. Ma intanto per oggi... Abbiamo... Ci dedichiamo un po' qua. Almeno vediamo se riusciamo a fare un po' di viaggi entro... Entro sera. Eccoci... buongiorno ok allora ragazzi facciamo così che io adesso continuo un po' qui con la legna o probabilmente continuo a registrare qualche altra puntata boh ragazzi io direi che per questa puntata siamo a buon punto facciamo così che vediamo io o continuo o magari continuiamo insieme nella prossima puntata a tagliare un po' di legna e vi do appuntamento al prossimo video sempre qui con la notte di Marche un salutone ciao 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 ciao